Il capogruppo dell'Udc in Consiglio Comunale a Fescara, Massimiliano Pignoli, rivolge un appello ai consiglieri regionali di maggioranza di centrodestra affinché modifichino i contenuti della legge regionale numero 96 del 25 ottobre del 1996 in materia di procedure per l'assegnazione e l'allocazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la determinazione dei relativi canoni. Ma guardate, la situazione rischia di degenerare in veramente rivolte importanti da parte dei cittadini che abbiano i casi popolari. Qualche scienziato ha voluto cambiare, modificare questa legge regionale rendendola secondo me incostituzionale, per cui io faccio un appello ai miei consiglieri regionali, soprattutto Sospiri, De Rensis e Blasioli, che sono da più anni in consiglio regionale affinché venga cambiata. Nel senso che stanno arrivando centinaia di lettere a Fescara sia da parte dell'altra del Comune che intimano le persone ad uscire fuori di casa per reati addirittura di dieci anni fa. In particolare Pignoli chiede di rivedere la legge nella parte che riguarda i soggetti che abbiano riportato condanne penali. Secondo l'esponente dell'Udc, ci sono soggetti che rischiano di essere cacciati dall'alloggio popolare anche se la loro condanna è stata espiata da oltre dieci anni. Poi tenete presente c'è oltre il danno la beffa perché queste case vengono recuperate dall'Atre o dal Comune e vengono misteriosamente murate. Quindi che cosa succede? che restano lì per sempre. Non vengono neanche assegnate alle persone che sono legittimate ad averle perché sono case veduste che non sono a norma. L'Ater non ha i soldi per sistemarle e quindi le case vengono murate. Quindi da un lato ci troviamo le persone che per reati fatti dieci, quindici anni fa si trovano fuori casa. Dall'altro lato allora si spera che eventualmente queste persone, altre persone che sono in gradatorio, possono ottenere invece una soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale per ottenere una casa popolare, no perché ad esempio l'Ater non ha i soldi per aggiustarla, per cui in gradatorio non si va avanti. Allora io dico che bisogna modificarla, bisogna modificarla per bene rendendo invece i diritti necessari per i cittadini.